Terzo settore è la realtà con cui l'organizzazione del lavoro, i servizi ai cittadini si stanno sviluppando in una direttrice nuova, sconosciuta in passato, ma che oggi è molto presente. Rispetto all'impresa tradizionale e al servizio che una società per azioni può offrire in forma privata al cittadino e dall'altra parte a ciò che l'apparato pubblico può fornire al cittadino sempre più, penso all'assistenza agli anziani, ai disabili, alla promozione di servizi sociali, vediamo che vi sono organizzazioni dette di privato sociale che senza finalità di lucro, ma organizzando delle forze lavoro, seguono quello che è la domanda di servizi che viene dalla società. È un settore che si è mosso molto per spontaneità, è giusto che la forza lavoro che muove tutto questo e i soggetti economici che stanno diventando i soggetti che in convenzione con la regione o le istituzioni pubbliche svolgono questi servizi, vengono messi ad analisi per capire cosa dobbiamo fare per rendere i servizi migliori e il lavoratore impegnato più garantito. Ecco che parlare quindi di terzo settore attraverso la creazione di una federazione sindacale che ha il nome evocativo di legami sociali è molto importante per la nostra regione che può cogliere da questo anche l'occasione per studiare le forze lavoro e le dimensioni del fenomeno e la capacità di offerta di servizi al cittadino e alla Toscana.